leggende metropolitane luoghi e misteri ad essi collegati sotto gentile concessione degli amministratori del sito storie inspiegabili che trovate in descrizione in questo video mi accingo a raccontarvi questa storia buon ascolto il libro du cinquecento è un antico e leggendario grimorio un testo di cui si sa molto poco si dice che sia custodito a ficarra in provincia di messina e che contenga oscure formule in grado di evocare spiriti in grado di aiutare chiunque possedesse il libro molte sono le storie le leggende nate attorno ai libri magici uno di questi è il mitico libro di cinquecento a renderlo particolare sarebbe la sua stessa natura questo particolare libro di magia conterrebbe formule oscure in grado di evocare spiriti buoni e spiriti malvagi esistono diverse storie che sono fiorite intorno al libro di cinquecento alcune di queste sono totalmente inventate altre invece sembrano avere un fondo di verità eppure come tutte le leggende e le tradizioni più radicate è molto difficile riconoscere quale sia vera e quale frutto di fantasia il libro sembrerebbe poter evocare gli spiriti alcuni di questi sono decisamente buoni e possono aiutare il proprietario del libro a superare tutti i problemi ma in altri casi le vocazioni possono portare nell'aldiqua anche energie malevole e spiriti maligni in grado di creare non pochi problemi a chi li avesse evocati tra i tanti condizionai quello che è certo e molti catanesi possono testimoniare è che il libro non sarebbe del tutto frutto di fantasia ancora oggi in molti paesi della sicilia si tramandano leggende relative al testo la leggenda del libro è molto antica le prime testimonianze lo collocano a gerusalemme attorno al mille avanti cristo si narra che venne ritrovato all'interno del sepolcro di re salomone non si sa se il manoscritto fosse contemporaneo al re oppure fosse scritto in un periodo precedente per questo motivo lo si data in quel periodo possedere questo libro avrebbe aperto al proprietario una porta verso lo scuro poiché all'interno si dice ci sarebbero formule incantesimi volti ad evocare demoni e spiriti ma anche il gravoso onere di tenerli sotto controllo il manoscritto anticamente era chiamato libro del comando perché con esso si potevano piegare gli spiriti al proprio volere era molto grande e rilegato in pelle con talismani e pentacoli incisi in rilievo sulle pagine oltre che sulla copertina il libro dopo essere stato trafugato dalla tomba di re salomone a prodon non si sa come sulle coste della sicilia e per anni fu custodito nella città di catania per poi essere spostato nel più sicuro paese di ficarra un paesino medievale che conta 1400 abitanti difficile stabilire quanto ci sia di vero storicamente attendibile riguardo l'esistenza del libro del cinquecento l'unica cosa certa è che le sue origini sono millenarie